Voglio ringraziare la Lega Nord, Matteo Salvini, voglio ringraziare Forza Italia, Presidente Brunetto e Lio Vito, voglio ringraziare tutti i parlamentari presenti, l'onorevole Ampella di Forza, di Fratelli d'Italia e adesso dovrebbero arrivare anche dal Senato i senatori Quagliariello e Giovanardi di Idea e ecco qui Mario Mauro dei Popolari. Io voglio ringraziarli perché sono riuscito a far comprendere l'importanza di questo mio gesto, un gesto estremo, 42 giorni, ho perso 18 chili, non è che sia una levata di testa, perché la motivazione, la base del mio sciopero della fame va ben al di là di quello che può essere per alcune sanzioni disciplinari, procedimenti assolutamente fasulli, farlocchi e pretestuosi e anche della sospensione di un dirigente SAP dal servizio sotto procedimento disciplinare per destituzione e l'input che è arrivato dal Dipartimento e che mi è stato informalmente, di cui sono stato notiziato, è proprio destituire una persona sottoposta a procedimento per promozione per merito straordinario perché ha rischiato la sua vita per salvare un'altra vita nell'attività di servizio, quindi uno delle persone migliori, con una bimba di 6 anni, da questo mese è mezzo stipendio, semplicemente perché è andato in televisione e ha fatto vedere che i nostri caschi sono marci, come in tutta Italia, che i giubbetti e i antiproietti li stavano per scadere e oggi sono scaduti, pressoché tutti in tutta Italia e l'amministrazione li ha dovuti prorogare, autoprorogare, autocertificato, quindi andremo domani in farmacia a comprare dei farmaci che magari qualche farmacista ha testato sulle suocere e ha detto non è morta, quindi ve li diamo da vendere. Su questioni importantissime che riguardano la sicurezza, se voi tutti che siete operatori del circuito mediatico andate su Google e battete quattro parole, Tonelli, SAP, l'acronimo SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, tagli e sicurezza, troverete 10.000 visualizzazioni. Questa è stata l'azione che in due anni ho fatto da quando sono segretario generale per far comprendere che uno degli apparati più importanti del Paese veniva smantellato. Non è soltanto un problema di caschi, è un problema di formazione. Ho cercato di spiegare dopo i fatti di Charlie Hebdo che non avendo noi mai fatto un addestramento di tiro dinamico questa nuova insidia del terrorismo era un'insidia alla quale non eravamo preparati perché i nostri criminali e i nostri terroristi utilizzavano armi diverse colpivano molte volte in maniera simbolica e cercavano la via di fuga questi invece vogliono ucciderti con armi ad alto potenziale cercando il martirio cambia completamente la prospettiva e quindi deve cambiare il processo formativo e nonostante le nostre proposte e nonostante avessimo cercato di formulare richieste accettabili in un contesto di spending review proponendo anche processi di razionalizzazione che fossero tali non dei tagli lineari non siamo stati ascoltati queste 10.000 nostre denunce potevano essere un cilicio un fastidio ma erano comunque assorbibili dopo i fatti di Parigi invece la prospettiva è cambiata completamente perché rischiavano di essere fonti di responsabilità ineludibili inaffrancabili pensate che con un'arma di plastica è stato messo in crisi un sistema a Roma Termini qualche settimana fa se fosse stato un'arma vera un terrorista vero che avesse fatto carne da macello chiaramente qualcuno avrebbe dovuto rispondere del perché del per come non vi erano uomini preparazione mancano 45.000 uomini nelle forze dell'ordine 18.000 nella polizia di stato non si vuole che noi io per primo andassi in televisione sui giornali a dire non risponde a verità che sono stati assunti 2.500 uomini straordinariamente per il giubileo perché si dicono tre bugie in una non c'è nulla di straordinario perché era già preordinato non sono per il giubileo perché vanno al corso il primo di ottobre scorso e usciranno il prossimo primo di giugno a giubileo ormai finito e sono destinati in tutte le altre città d'Italia forche Roma e terzo la bugia più grossa si dà da intendere che ce ne sono 2.500 in più mentre invece sono esattamente 2.500 in meno perché abbiamo un turnover al 55% e ogni anno perdiamo 2.500 uomini non si vuole che si dica che non è vero che sono stati formati dopo i fatti di Charlie Hebdo solo nella polizia di stato 30.000 operatori con corsi antiterrorismo perché è una farloccheria terribile è un'irresponsabilità nei riguardi di chi è su strada ed è una mascalzonata nei riguardi dei cittadini perché se si considera un corso antiterrorismo in una disciplina pratica come quella delle tecniche cooperative una breve lezione di tre ore in una conferenza magari online come stanno facendo adesso e allora questo si mente perché non si prende non si diventa chirurghi con un corso di tre ore online e non si prende una patente con un corso di tre ore online ma si deve andare su strada e in sala operatoria e la stessa cosa vale per noi queste cose non si vuole non si voleva che fossero dette e quindi è iniziato un'attività di repressione illecita nel senso tecnico giuridico del termine su quelle che erano denunce questo dirigente è stato sospeso ma faccio fatica ho cercato di spiegarlo in conferenza stampa nella quale ho pubblicato tra l'altro tutti gli atti e si dimostra in maniera inequivocabile e incontrovertibile che la dicitura nel decreto quindi la motivazione nel decreto di sospensione il dipendente deliberatamente prelevava materiale non più in uso alla polizia di stato per mostrare alla giornalista è falsa perché agli atti si è dimostrato che il materiale era tutto in uso è stato usato anche dopo e posso assicurarvi che persino la scorsa settimana è stato usato è stato tolto di lì ma alla necessità viene tirato fuori e utilizzato non solo però farei fatica a spiegare a mia mamma che cos'è un falso ideologico in atto pubblico come reato e che cos'è un dolo specifico necessario per il falso ideologico in atto pubblico mi hanno fatto un regalo l'altra settimana venerdì perché mi avevano troverete qui ho messo fatto il fascicolo per tutti voi sono stato due volte da Lucia annunziata la trasmissione in mezz'ora uno il 22 di novembre l'altro il 10 di gennaio e mi fu chiesto di portare qualche simbolo perché fosse identificato ero con Landini prima con un imam in modo che ognuno venisse e esprimesse anche a chi a casa ci sono anche delle logiche volte scenografiche non potendo mettermi indumenti dell'amministrazione cosa ho fatto mi sono messo la maglietta ufficiale del SAP una maglietta che ha comperata a libero mercato di un materiale diverso da quello dell'amministrazione che è una fibra sintetica questo è cotone al 100% con i bottoni SAP come nella fotografia ho messo i bottoni SAP negli alamari a prova distordito c'è scritto SAP sindacato autonomo di polizia col suo logo perché non è sindacato dei portieri o dei portantini della polizia quindi attenzione agli infermieri si metteranno sindacato autonomo infermieri ma soprattutto a prova distordito anche se istituzionale un I love polizia proprio in controtendenza e per provocazione contro chi? contro il partito dell'antipolizia che ha esponenti molto influenti nel circuito mediatico nella pseudocultura autoreferenziale italiana e anche nel mondo istituzionale compreso i tempi della democrazia però sono libero posso essere libero di amare la mia amministrazione e dimostrarlo devo dire però che se vado da mia mamma e gli chiedo mamma tu che non capisci cos'è il dolo specifico o il falso ideologico in atto pubblico scusami secondo te capisci che questa non è la maglia della polizia forse lei non sa distinguere quella del carabiniere da quella della polizia o della polizia penitenziaria dalla forestale ma che questa non sia una maglietta della polizia è chiara a tutti mi è stato aperto un procedimento disciplinare e venerdì mi è stata irrogata la sanzione proprio perché io ho pubblicamente sbeffeggiato chi ha tentato di punirmi di intimidire una comunità intera con un gesto di arroganza illecito illecito perché questo penso che agli occhi di tutti voi nessuno abbia un dubbio che questa non sia la maglietta con il quale le volanti vanno fuori questo è chiarissimo e allora questo mi consente di dimostrare a milioni di italiani che hanno già visto le trasmissioni e a tutti coloro che bontavostra avranno notizia di questa informazione che c'è qualcuno che dentro al palazzo utilizza e questa è la motivazione lo strumento dell'illecito per reprimere un dissenso a fini politici e questa è una cosa grave perché il dipartimento della PS e la polizia di stato devono essere i guardiani non solo della legalità ma dei valori fondanti della nostra democrazia se voi prendete la carta costituzionale e andate ai primi tre articoli troverete una serie di norme che definisco io anti-ignavità che sono i doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale cioè il dovere di chi lavora dei cittadini di partecipare non passivamente alla gestione del paese ma attivamente assumendoci ognuno le nostre responsabilità e chi intende commissariare da uomo libero questa democrazia non può contare né sul mio né su quello dei miei colleghi di consenso non ci si può mettere sulla torre d'avore dire lasciateci fare sappiamo noi io ho fatto questa pubblicazione di questo mio breve periodo per un motivo abbiamo avuto nonostante la cappa della censura di palazzo che ha agito in tutti i settori del circuito mediatico e questa provocazione la lancio apposta per sperare per vedere se domani o questa sera riusciremo ad avere una visibilità su questa questione che è grave perché se era grave ipotizzare di aver utilizzato un casco marcio scaduto cosa che invece non era penso che sia molto più grave dover commettere un reato che ho denunciato alla procura per tacitare un dissenso politico questo è un fatto grave soprattutto da parte di chi deve essere guardiani dei valori fondanti della nostra democrazia e della nostra carta che sono le forze dell'ordine si era voluta una polizia civile per questo motivo tanti anni fa proprio perché dopo alcune periodo quello della notte della Repubblica ci fosse proprio la possibilità da dentro di avere dei soggetti democratici che denunciassero all'opinione pubblica nell'interesse del Paese si erano fatti che non funzionavano come dovevano e invece oggi li si vuole reprimere e questo noi non ci stiamo non è accettabile scendiamo dal pero ho visto nei primi giorni del mio soprio della fame che vi era da parte dell'ambiente cattolico una grande sensibilità e allora in collaborazione con una pagina che è si informi taglia proprio dell'ambiente cattolico ho fatto pubblicare un post quando ho immesso finito la prima volta un po' all'ospedale per qualche problemino quel post ha ricevuto a una settimana fa quell'unico post 3 milioni e 200 mila visualizzazioni quindi saremo oggi sui 3, 4, 3, 5 e ha avuto un 3% di interazioni un risultato straordinario che di solito sta sullo 0,3, 0,5 ho pubblicato per far comprendere a chi governa questo Paese i loro pensieri i loro commenti al quale ho risposto tutti ho fatto questa pubblicazione ve l'ho data la manderemo anche al Ministro Palazzo Chigi e al Presidente perché non si può pensare di governare senza tener conto del sentire della Nazione Italia del pensiero della gente e non si può commissariare una democrazia dicendo non vi permettete di criticare perché sappiamo noi cosa dobbiamo fare io non ho nessuna intenzione per questo sono 42 giorni e non intendo neanche finire qui del mio sciopero della fame ho perso 18 chili e proseguirò fin dove perché questa cappa di omertà e poi ho concluso per un motivo molto semplice io non ho scioperato per a favore di qualcosa sì io ho scioperato a favore della brava gente di questo Paese e contro la debilitazione ma soprattutto ho scioperato contro denunciando delle responsabilità attenzionare il mio sciopero della fame voleva dire anche da parte delle istituzioni di questo Paese attenzionare le responsabilità che ho denunciato anche in procura la documentazione del procedimento di sospensione del mio collega è sul sito SAP compreso la spiegazione dell'intera conferenza stamp dove virgola per virgola punto per punto ho seguito un percorso logico dove dimostravo in maniera inequivocabile e incontrovertibile che vi erano cinque motivi ognuno sufficiente per dire che quell'affermazione era falsa però non se ne è parlato e le prime pagine il giorno dopo erano pronte per dire che qualcuno aveva mostrato in televisione falsamente un casco marcio però per una cosa del genere non c'è stato attenzione nonostante la gravità della cosa perché se vi era attenzione per il casco marcio a maggior ragione doveva essere attenzione per chi invece l'aveva denunciato falsamente dai verici del dipartimento io ho denunciato il costore di Roma e il capo della polizia assumendomi la responsabilità per quello che abbiamo mandato queste cartoline da tutta Italia dai miei colleghi dalle piazze Presidente abbiamo bisogno di lei in maniera molto deferente perché qualcuno l'ha fatta fuori dal vaso istituzionalmente parlando e quindi serve il garante della nostra comunità di intervenire ma mi dispiace non è intervenuto nessuno forse perché e chiedo la vostra collaborazione il vostro aiuto e ringrazio tutte le forze politiche che oggi sono qui e che hanno prestato attenzione e li ringrazio umanamente e come rappresentanti di 20.000 poliziotti noi vogliamo solamente fare il nostro lavoro e avere un riconoscimento di dignità ieri Matteo Salvini ma possono fare tutti lo hanno fatto altri è andato a Bologna nella nostra caserma guardate quel filmato io l'ho pubblicato qualche mese fa voi non ci credete se non lo vedete le condizioni in cui operano e vengono riservate gli operatori di polizia vi ho messo dentro la cartellina tutti i commissariati non c'è bisogno di andare a cercare il commissariato di Canegatti andate tutti i commissariati di Roma voi che siete giornalisti a fare la vostra inchiesta e dite ci fate vedere i caschi gli M12 i giubbetti antiproiettili fermate le auto ci fate vedere cosa avete dentro gli chiedete quanti metri ha il vostro commissariato 500 ah quindi avete un'ora per sanificare pulire e sanificare l'ambiente perché in un commissariato di 1000 metri ci sono riservate due ore sono è il paradiso delle massaie 10 appartamenti da 100 metri si puliscono e si sanificano in due ore alla settimana volete andare alla costura di Ferrara di Frosinone di Rieti chiedete se hanno più di 500 euro all'anno per la cancelleria che dobbiamo bonariamente taglieggiare parenti amici per avere una penna un taglierino una spillatrice e così vale per tutto il resto nel 92 avevamo l'equivalente di 90 milioni di euro per le divise nel 2014 15,8 milioni queste sono le cose che non vogliono che si sappiano perché mutatis mutandis sono in tutto formazione compresa nella polizia di stato hanno tagliato il 50% dei capi reparto per risparmiare su concorsi corsi e differenze stipendiali mancano 15.000 ispettori 10.000 sovrintendenti per questo motivo la gente fuori comincia a patire quando la gente fuori dice ci vogliamo difendere vogliamo essere difesi se no ci dobbiamo difendere c'è un motivo togliamoci dal terrorismo o togliamoci dai reati predatori guardate soltanto la circolazione stradale in controtendenza gli ultimi decenni l'anno scorso sono aumentati i morti per mancanza di prevenzione meno pattugge meno prevenzione Rimini io sono un romagnolo ci sente da 150.000 abitanti d'estate diventa 1.400.000 si parla di stragi del sabato sera visto che parliamo di morti su strada è sabato sera sei mesi all'anno quanti uomini in più ha ricevuto quest'anno la polizia stradale della provincia di Rimini zero perché non ci sono perché avendo drenato raschiato da tutte le parti quei due in più che c'erano hanno dovuto mandare prima all'Expo e adesso quest'anno qui al Giubileo chiedete visto che si è parlato tanto di Cocorico vi faccio questi due esempi e ho finito e della lotta al narcotraffico allo spaccio quanti uomini ha la narcotica di Rimini sei e il più giovane ha 46 anni quindi è già penna bianca e quando va dentro a fare un controllo in un qualsiasi locale non può neanche fingere di essere un genitore comprando un biglietto perché? perché deve entrare col tesserino perché non ci sono 200 euro per comprare dei biglietti di fondo per simulare di essere un genitore che va almeno a controllare atteso che non si possa mettere una parrucca che si veda questa è la condizione in cui operiamo poi è chiaro che quando chiamano la prima cosa che diciamo dopo un'ora che arriviamo perché siamo su un altro intervento in una città perché più o meno io vengo da Imola più di una pattuglia non si può fare è guai se arrestiamo qualcuno perché ogni volta ci dobbiamo pensare lo arrestiamo perché se lo arrestiamo poi abbiamo finito con la gente con la brava gente perché dobbiamo poi stare dentro e piantonarlo e la pattuglia fuori non c'è più che facciamo? si va? non si va? Ferrara? Ravenna? Forlì? e così vale è chiaro che poi alla fine è un problema la prima cosa che faccio è provare a scusare ma non è colpa nostra queste cose espongono una classe dirigente interna e una classe di governo a delle responsabilità gravi non hanno voluto questa denuncia ma non sarà quando crollerò io comunque continueranno fuori perché quel gazebo rimarrà lì per dei mesi inizieremo con la staffetta ci sono due colleghe oggi che sono venuta Anna De Palma e Nadia Coccellato una da Parma una da Rimini l'altra settimana altri colleghi mi affiancano lo sopporto della fame partiremo e continuerà perché noi siamo con la brava gente di questo paese milioni le sono le visualizzazioni e le interazioni perché la gente questo è un problema che sente e allora chi governa questo paese deve comprendere che non è con dei martiri che si può schiacciare un dissenso ma con il dialogo il confronto e forse ascoltando perché se ci si vuole mettere come grandi ci si vuole presentare come grandi architetti di un futuro di una nuova Italia e allora caro architetto è meglio che vai anche in cantiere a vedere due maestranze perché sono a sto palazzo non lo tiri su perché sicuramente anche il maestro muratore dopo 30 anni di cantiere è in grado di dirti guarda che forse questa cosa è meglio farla in quest'altra maniera prova a ascoltare perché la scienza infusa non ce l'ha nessuno non ci nasce imparati in questo senso grazie a tutti e vi prego veramente dateci date visibilità a questo perché ribadisco non è il problema della maglietta mi ha fatto il più grande favore perché questo è un modo per acclarare per provare scusate una grunita di palazzo che non aveva che non rende onore e dignità all'istituzione di questo paese e non è il problema neanche del mio collega per quanto sia una sporcaccionata il problema è un problema di democrazia ed è un problema di dire che la nazione deve avere al primo obiettivo le istituzioni quelle di servire una comunità e non in maniera autoreferenziale di predare forse anche solo per vanità su quello che è le occasioni che un sistema può fornire grazie mille a tutti grazie 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 a tutti